buongiorno buona settimana che comincia buona settimana che comincia in compagnia di legal community e di mag oggi che 19 luglio esce l'ultimo numero della stagione del nostro quindicinale l'appuntamento poi ovviamente sarà a settembre con la prossima uscita ma per le nostre e vostre vacanze insomma vi lasciamo in compagnia di una edizione particolarmente ricca di contenuti del nostro magazine a cominciare dalla storia di copertina che abbiamo dedicato sul versante legale a legans legans tra le grandi insegne nazionali sicuramente quella che nell'ultimo anno ha mosso più pedine sullo scacchiere del mercato noi ne abbiamo parlato con filippo troisi che uno dei signor partner dello studio uno dei fondatori dello studio spesso e volentieri speaking voice della dell'associazione professionale col quale abbiamo ragionato di nuovi ingressi lateral air che ci sono stati strategie di internazionalizzazione novità sul fronte della governance del passaggio generazionale dello studio novità sul piano della crescita e dell'approccio alla crescita da parte di legans e dei suoi soci perché è un discorso molto interessante quello che sta emergendo non è più un tabù quello di ingrandirsi come organizzazione professionale ma è un effetto no della capacità di stare sul mercato ecco di questo ragiona filippo troisi con me in questa intervista insomma questo potrete approfondire andando a leggere questo pezzo altri articoli interessanti sul fronte legal se abbiamo intervistato uno dei co managing partner dello studio cms che ha raccontato nel dettaglio come dire la strategia di sviluppo della lo firm qui in italia con un focus particolare al rafforzamento che ha avuto sul fronte tax abbiamo chiaramente tanto spazio dedicato alla legal community week da cui siamo reduci siamo stati in compagnia di molti di voi in questi giorni passati ecco troverete su questo numero di mag tutti i video che raccontano giorno per giorno quello che è accaduto con la voce dei protagonisti che hanno animato queste giornate della legal community week troverete le fotografie le immagini i contenuti degli approfondimenti abbiamo dedicato nello specifico uno spazio piuttosto ampio alla breakfast on finance in cui franco gianni e giovanna della posta quindi rispettivamente fondatore di gianni origoni e amministratrice delegata di imbimit hanno dialogato sul sistema paese sulla finanza sugli scenari che ci attendono nel prossimo futuro quindi potrete approfondire molto di questo fronte finanziario andiamo a raccontarvi un private equity hat e le sue strategie di mercato che cosa guarda con attenzione tecnologia farma quali sono i settori in cui ci saranno le maggiori opportunità nel prossimo futuro così come sul fronte in house come di consuetudine insomma vi raccontiamo i dati della ultima salary survey riguardante il mondo appunto dei giuristi di impresa con queste retribuzioni che salgono per rispondere come dire all'evoluzione di questo settore poi infine le nostre incursioni nel food business grande spazio all'ultima iniziativa imprenditoriale di carlo cracco a portofino ma insomma per approfondire tutto questo per leggere quanto vi ho raccontato e molto di più dovete scaricare questo numero di mag vi farà compagnia assieme a tutto il resto del nostro archivio che è sempre a vostra disposizione per questa estate noi ci rivedremo a settembre il 13 settembre vi auguro buone vacanze vi auguro buona estate ovviamente restate sintonizzati su legal community su tutti i siti di informazione dlc publishing che invece continueranno ad aggiornarvi su quello che succede giorno per giorno ciao